buongiorno a tutti oggi ci troviamo allo studio mt di rosta il nuovissimo studio fitness aperto da questi due ragazzi federico e michele ciao ragazzi buongiorno lo studio mt di rossa è il nostro secondo centro studio mt personal fitness in val di susa nasce con l'obiettivo di portare avanti il lavoro di personal training in rapporto uno a uno tra noi chiaramente il cliente all'interno di questo contesto chiaramente il nostro cliente seguito a 360 gradi con la presenza oltre che delle nostre figure anche di personale qualificato quali nutrizionisti fisioterapisti masso fisioterapisti e psicologi e in questo periodo di queste continue restrizioni soprattutto per il vostro campo come siete organizzati allora in questo periodo siamo stati fortunati perché avendo questo studio professionistico ed essendo un insieme di figure professionali in ambito di salute di benessere che è quello che trattiamo prevalentemente lavoriamo con prescrizione medica quindi dal lunedì al venerdì potete tranquillamente venire a farvi a farvi seguire e inserì a inserirvi in quelli che sono i nostri servizi seguendo quello che è un piano programmato e di screening abbiamo come diceva federico sia fisioterapisti e nutrizionisti e insieme riusciamo a garantire in questo momento una sorta di benessere nonostante le chiusure e i limiti che il covid ha messo molto bene ragazzi allora vi faccio un grosso in bocca al lupo e mt vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì a rossa in corso moncinizio 63 ciao a tutti ciao